Qual è la tua rappresentazione astronomica preferita? Per me penso che siano quei pilastri della formazione delle stelle che ha fatto il telescopio Hubble. Sono delle fotografie veramente straordinarie, è un po' strano perché in realtà cerco cose come le galassie, ma in termini di foto magnifiche queste sono veramente svalorditive, semplicemente perché si tratta di oggetti stupendi che non hanno nulla a che fare con gli oggetti astronomici. Ho visto questa rappresentazione in una galleria d'arte, è una bellissima fotografia, ci sono stelle brillanti che spuntano fuori dalla fotografia, una specie di sfolgorii lontani su questi pilastri, vedere questi pilastri di gas in mezzo alle stelle che sembrano saltare fuori da essi e da un punto di vista scientifico è una veduta affascinante, fondamentalmente perché è una fotografia bellissima. Penso che il mio pensiero favorito è qualcosa che non puoi vedere ad occhio nudo, perché è il profondo campo del lab, quelle immagini, quelle dove tu guardi e ti rendi conto che ci sono dei tenui oggetti blu in quelle immagini, che sono vecchi, sai, circa 10 miliardi di anni, allora pensi semplicemente che non stai guardando niente, questa luce ha viaggiato per 10 miliardi di anni ed è eccezionale, questa è la cosa eccezionale dell'astronomia, quando guardi fuori e non stai guardando solo queste cose bellissime, non stai solo guardando a lunghe distanze, stai guardando indietro nel tempo. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!